L'Italia si trova ancora nella fase acuta dell'emergenza. L'altro giorno abbiamo superato le 10.000 vittime, una grande ferita che si allarga nella nostra comunità nazionale, ma sicuramente ce la faremo, usciremo da questo tunnel, vinceremo questa sfida sanitaria, questa sfida economica, solo che dobbiamo stare molto attenti, seppure adesso il numero dei contagiati sembra calare progressivamente, dobbiamo attendere e non vanificare tutti gli sforzi sin qui adottati. C'è qualcosa secondo lei che altri paesi potrebbero imparare dall'Italia mentre stanno cercando di affrontare questa crisi? Ma io posso dire quali sono le caratteristiche del modello Italia. Il modello Italia è caratterizzato dal fatto che sin dall'inizio ci siamo costantemente confrontati con scienziati ed esperti. Secondo abbiamo accordato valore prioritario alla tutela della salute dei cittadini e di qui quindi il massimo rigore, massima precauzione nell'adottare misure di contrasto. Ovviamente queste misure le abbiamo declinate con criteri di adeguatezza e proporzionalità, quindi anche gradualità. Infine massima trasparenza, sempre costante nei confronti dei cittadini. Ecco queste sono le caratteristiche del modello Italia che ci è stato riconosciuto come efficace, particolarmente efficace, efficiente, a più riprese dall'Organizzazione Mondiale della Sanità. Tanti paesi si indebiteranno a causa della crisi provocata dal coronavirus e lei, insieme ad altri paesi, chiede i cosiddetti Corona Bons, quindi prestiti comunitari emessi dagli Stati europei. Alcuni critici in Germania dicono che questo non è compatibile con la nostra Costituzione nazionale ed il presidente della Banca Centrale tedesca sottolinea che parlare di Corona Bons equivale a dare la propria carta di credito ad un'altra persona ma perdere allo stesso momento il controllo sulle spese. Come vuole superare queste riserve? L'Europa compete con la Cina, con gli Stati Uniti. Gli Stati Uniti hanno stanziato 2.000 miliardi, pari al 9,3% del PIL per reagire prontamente e uscire da questa emergenza. E in Europa cosa vogliamo fare? Ogni Stato membro vuole andare per conto suo? Se la reazione non sarà una reazione coesa, vigorosa, coordinata, l'Europa diventerà sempre meno competitiva anche nell'ambito dello spazio globale di mercato. Poi vorrei anche ricordare che questo meccanismo a cui lei allude, dell'Eurobond, non significa che di fronte alla ricostruzione che l'Italia affronterà i cittadini tedeschi pagheranno un euro dei debiti italiani. Significa semplicemente creare una reazione comune in modo da realizzare condizioni di mercato più vantaggiose anche per finanziare questi sforzi di ricostruzione in modo che tutti se ne giovini. Per aiutare l'Italia la cancelliera tedesca propone di riutilizzare il MES, sottolineando che così anche la Grecia è stata salvata dal fallimento statale. Perché secondo lei questo non sarebbe lo strumento adatto? Io rispetto le opinioni di Angela Merkel con la quale è un ottimo rapporto e rispetto le opinioni di tutti, però attenzione, non stiamo parlando di uno shock asimmetrico. Come ho già detto non parliamo di problemi di tensioni finanziari di un singolo paese. Quindi come si può di fronte a una sfida epocale, come può l'Europa pensare di ricorrere a degli strumenti pensati in altri tempi, con regole vecchie, superate, per accompagnare singoli stati verso processi virtuosi finanziari? Allora chiariamolo. L'Italia innanzitutto i debiti li ha sempre pagati e continuerà a pagare i debiti propri. Secondo, l'Italia è vero che ha avuto tensioni finanziarie dopo il periodo della crisi 2008-2009, ma da allora, pensate al 2011, ha sempre avuto un avanzo primario positivo ed è sempre stato il suo PIL superiore all'1,5% di media. Presidente, lei ha più volte ribadito di andare d'accordo con la cancelliera tedesca. È vero che Angela Merkel durante l'ultimo summit europeo le ha detto personalmente «Alla fine faremo uso del MES, non essere così critico, si aspetti che arrivi in Corona Bond, considera che potrebbero non arrivare mai». È vero che le ha detto proprio così? Guardi, adesso le parole esatte non le ricordo, le dico molto francamente. Sicuramente abbiamo espresso due visioni diverse durante la nostra discussione. È una discussione, però attenzione, io vorrei, ne approfitto anche per dire a tutti i cittadini tedeschi, noi non stiamo scrivendo una pagina del manuale di economia, di un manuale di economia, stiamo scrivendo una pagina di un libro di storia. Noi qui siamo chiamati a reggere, ad affrontare una sfida epocale, è uscire un'emergenza devastante, che ha un impatto devastante sui nostri sistemi sanitari, economici, sociali. L'Europa deve dimostrare, se è la casa comune per i cittadini europei, che riesce a offrire di fronte a una sfida epocale, una risposta adeguata all'altezza dei suoi compiti, per cui è stata pensata da Schumann, Adenauer, De Gasperi. Grazie Presidente per il tempo che ci ha dedicato e i nostri migliori auguri a Roma. Altrettanto a voi e a tutti i telespettatori tedeschi.